io cercherò di copiare e anche lui la arca miseriazza e anche lui alla carcabella alla carcabella alla carcabella l'ho fatto tutto col fumo lì l'ho fatto tutto col fumo lì incredibile e sì c'è dentro tutti quelli lì io ho visto dove si è fermato il video ma sono seduto mi ha buttato fuori da sentiero basta mi sa che era meglio quella di qua no però era tutta più liscia sotto è peggio sì mi sa che quella di qua scivola di più perché è tutta pulita sì quello sì è tornato indietro e là in bilico ma secondo me secondo me non ce la fa da lì vedo solo quasi la testa sì ma figaro cioè c'è un bel coraggio sì quello sì quello è vero tutto prato era tutto bestiame eh non riesce il dito mi sa che torna giù è un bel coraggio sì 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 sì